Informazione, preparazione, conoscenza. Quando si maneggia il denaro, che lo si spenda o lo si investa, bisogna farlo consapevolmente, dotandosi cioè di strumenti essenziali che consentano di gestirlo senza farsi travolgere da parole apparentemente distanti dalle tasche del nostro quotidiano. Inflazione, PIL, moneta, l'educazione finanziaria deve partire presto e dai più giovani, per conoscere le regole di base e le parole astruse della finanza, per semplificare la gestione quotidiana del nostro denaro, ma anche, alla fine, per favorire l'inclusione sociale ed economica. Va esattamente in questa direzione il progetto presentato oggi in prefettura e al quale concorrono a livello territoriale l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, la Banca d'Italia, l'Agenzia delle Entrate, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e l'Ufficio Scolastico Territoriale. Un'iniziativa che rende orgoglioso il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, in procinto di essere trasferito all'Aquila. Sono particolarmente contento di dedicare l'ultimo incontro con la stampa per parlare di un'iniziativa che abbiamo sviluppato con le istituzioni che si occupano di economia, con il mondo dell'università e con le istituzioni scolasche sul tema dell'educazione finanziaria. L'obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi in modo di far sì che al raggiungimento della maggiorità abbiano una vera cittadinanza economica, soprattutto sulle principali tematiche che li coinvolgono, anche nella vita quotidiana. L'iniziativa nasce su proposta del professor Mauro, che voglio pubblicamente ringraziare, che abbiamo subito avuto il consenso dell'adlusione sia nello Capodro, sia delle entrate del Dipartimento di Economia dell'Università, così come della Banca d'Italia. Credo che sia un'iniziativa molto importante per chi cerca di avvicinare i giovani ai grandi temi dell'economia e della finanza. Io vorrei fare un esempio concreto. Molto spesso sentiamo parlare di inflazione, sentiamo parlare di Europa, ma questi temi sono trascurati poi all'interno delle scuole, soprattutto, o giustamente, tra le scuole. Allora, è una sorta di rapporto diretto che si viene a creare per avvicinare i giovani ai grandi temi che oggi sono sul tappeto, che sono poi i temi che decidono il benessere di una società, il benessere di una famiglia, perché è chiaro che se l'inflazione, per esempio, aumenta, noi avremo un crollo del costo della vita e quindi un potere d'acquisto che diminuisce, un avvergamento della povertà per i reti più bassi. I giovani conoscono queste cose? Allora, il punto è questo. E quindi noi faremo una serie di iniziative tendenti, da un lato, a valorizzare questo tema dell'economia in senso stretto. Poi ci sono temi relativi all'andamento dell'economia europea, all'andamento dell'economia italiana e, credo, anche sulla struttura finanziaria delle imprese. Credo quindi che la Banca d'Italia farà poi temi specifici riguardanti appunto il rapporto con il risparmio e con altre tematiche connesse alla finanza.